Buon dì! Oggi mi trovo a Porto Venere a raccogliere i corbezzoli. Dove sei qua solo a fare questo? Ok. Non davanti al cactus. Tu Giulia l'hai mangiato? No, stavo aspettando un vostro parente. Anch'io! Non so. Perché l'ho sputato? Ciao, Webb. È il primo novembre e siamo venuti qua per fare un bagno, vero? Ti fai fare un bagno? No. Tu sei venuto per fare un bagno. Voi. Quindi facciamo il tuffio bomba dove loro stanno pescando. Lo riprendo. Vai. Ok, vai. Farlo saltare. Sanno scaduti i begatelli. Magna il cane. Si pesca? Si qua, Giulietta! Arrivo. Bisatto. Ti passi. Anna! 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 È il primo novembre e siamo venuti qua per fare il bagno anche con la mamma. No, io no. No, io no. Perché la pesca? No, io no. No, io no. No, noi no. No, io no. No, io no. No, io no. Andiamo qua. Oh! E' bella fondo Non sarà mica un succo di frutta Davide Grazie No, lo rubo a lei Come pioveva siamo andati a fare un giro nel centro commerciale di Sardano No, 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 no 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 Ok